Le scuole e gli uffici di Battipaglia potranno utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza. Da marzo lavoreranno per il comune come stabilito nella giunta guidata dalla sindaca Cecilia Francese che a fine mese scorsa ha approvato il PUC, acronimo di progetti utili alla collettività. Verranno impiegate 67 persone in diverse attività con quattro progetti che su proposta dell'assessore alle politiche sociali Francesca Giuliano sono stati pensati per avviarli al mondo del lavoro. L'impegno è di circa 8 ore a settimana fino a un massimo di 16, a seconda delle caratteristiche di ogni progetto che durerà 12 mesi fino al termine di febbraio 2023. Secondo quando è emerso i primi 12 saranno impegnati nell'attività scuola sicura garantendo la sicurezza del percorso della fermata dello scuolabus fino all'ingresso e viceversa. Altro progetto denominato un aiuto in comune vedrà impegnati 15 percettori che con dipendenti comunali saranno inseriti in attività svolte negli uffici del municipio. Terzo progetto è la città di tutti che invece impegnerà 20 unità e punterà a migliorare il decoro urbano attraverso una serie di attività che rendono più accoglienti ospitali gli spazi comuni e le strutture pubbliche come la riqualificazione delle aree verdi, la raccorta di rifiuti lasciati per strada, manutenzione dei parchi urbani e parchi giochi per bambini, rimozione di tag e graffiti dagli edifici pubblici. Altri 20 infine saranno inseriti per l'iniziativa ti prendo per mano a cura del comandante della Polizia Municipale Gerardo Iuliano. Obiettivo è divulgare la cultura della sicurezza. I lavoratori andranno ad affiancare i caschi bianchi nel controllo degli istituti scolastici per garantire una maggiore sicurezza degli alunni.